Il Tennis a Giotto archivia i campionati italiani maschili Under 14, trofeo Federico Luzzi. Un campionato che per tutta la settimana ha animato qui i campi del Tennis Giotto, un evento sportivo molto importante, ha altissimo valore. Ha arricchito la città in questa settimana particolare e ha dato modo anche agli atleti e agli accompagnatori di vivere il clima di giostra che si respira. Nove giornate ricche di incontri tra 128 tennisti del 2009 provenienti da tutta la penisola che hanno trovato il loro compimento con l'assegnazione dei due titoli nazionali nel singolo e nel doppio. Non è mai facile fare un torneo di questa portata con tanti ragazzi, le famiglie e gli allenatori, quindi siamo felici che i ragazzi si siano trovati bene, che abbiano passato una settimana felice e si siano soprattutto divertiti perché alla fine sono ragazzi giovani, quindi è importante che il divertimento sia sempre prioritario per loro. La giornata conclusiva ha preso il via con la finalissima del doppio che ha regalato particolari emozioni per la coppia formata da Leonardo Fiocchi dello Sporting Club Selva Alta di Vigevano e Andrea Petrini dello Sport Club Nuova Casale di Casale Monferrato. Nel singolo si è invece imposto Peter Ciancherotti dell'Associazione Tennis Verona.